Buongiorno, oggi è un piacere di avere con noi per i nostri dialoghi di Orpisaglia Federica De Paulis e Walter Cancarello da Firenze, entrambi bibliotecari, entrambi esperti bibliografi applicati proprio alla vita culturale del Novecento, loro sono stati un po' i protagonisti in un'esperienza editoriale anche che al momento è conclusa, legata a Regione Toscana e che si chiamava Bibliografia e Informazione, sono usciti volume importanti, penso a quello su Montaneglia, quello su Dacia Marain. Ci siamo qui con loro perché è appena uscito un libro molto bello, devo dire, si legge con un gusto proprio, un editore alle sue idee, Enrico Bemporad e la prima fiera internazionale del libro di Firenze. A cuore di Massimo Gatta è pubblicato dall'edizione Biblohaus di Macerata. Come mai è venuta l'idea di questo libro? Chi risponde? Nasce da una collezione, da alcune cartoline illustrate dedicate appunto alle fiere fiorentine, alle fiere del libro internazionale fiorentine che si tendono dal 22 al 32 in quattro edizioni diverse. Di queste cartoline non si trovava documentazione, non c'era bibliografia su che cosa si riferissero e ci venne l'idea di approfondire e cercare di scavare su queste iniziative. E' venuto fuori appunto una marea di materiali, di documenti, tutti da scoprire, tutti da spolverare. niente e quindi doveva poi tutto questo convergere in un'unica monografia che raccontava le quattro edizioni ma purtroppo appunto in occasione doveva uscire nel 1900 nel 2022 in occasione dei 100 anni della prima edizione ma tutto questo poi non è andato a buon fine per i fatti della pandemia che l'ha bloccato ovviamente. Tutti i libri si li porta via diciamo così. Sì. Allora però dicevi prima che non è un'iniziativa che è andata, che è morta perché c'è forse una possibilità di una sua ripresa. Allora sì sì ovviamente il materiale c'è, ci sono moltissimi studiosi che adesso si stanno interessando alla cosa e vorremmo recuperare l'iniziativa del 22 con in occasione dei 100 anni della seconda edizione del 25 e questo dovrebbe portare ad un'iniziativa a partire da una mostra che si dovrebbe tenere in Biblioteca Nazionale Centrale e di conseguenza a un convegno dove riusciremo ad indagare finalmente non solamente la fiera del 22 ma anche tutte e quattro le edizioni successive. Però questa diciamo così potrebbe essere quasi un film diciamo così. Questo Firenze 1922 diventa però uno snodo centrale sia della vicenda di Enrico Bemporad sia per per la nascita di questa di questa serie di questi quattro simili e molto diverse fra di loro iniziative espositive. Cosa c'entra la figura di Bemporad? Perché diventa comunque centrale? Sì posso aggiungere una cosa che praticamente come ha già detto Walter questo libro nasce da un eccesso di documentazione. Abbiamo raccolto così tante cose che poi alla fine è stato necessario concentrarci su una delle quattro edizioni della fiera che non l'abbiamo detto sono quella del 22, del 25, del 28 e del 32. Quello che ci è interessato in particolare era cercare di indagare che cosa era scattato in quel momento a Firenze. Qual è stata la scintilla che ha portato poi a una manifestazione di ampissimo respiro di carattere internazionale veramente una grande manifestazione? Una delle risposte che ci è venuta è questa che a Firenze in quel momento c'è un nuovo amore di Bemporad, una persona innamoratissima del libro, innamoratissima del proprio mestiere, del proprio lavoro che non concepisce come un semplice lui dice stampar carta. Noi abbiamo cercato di dare tanta voce a Bemporad in questo libro anche proprio attraverso la trascrizione dei suoi discorsi. L'editore ha un ruolo importante, l'editore è un disseminatore di idee, combatte l'analfabetismo, combatte con il suo... È un protagonista proprio della vita culturale. È un protagonista per cui noi... Dice quella dell'editore è la più valorosa ma anche la più difficile mercantia quella del libro. Infatti, lui ha questo discorso, gli editori sono mercanti ma sono anche coloro che contribuiscono a elevare la qualità spirituale e culturale di un paese. Per cui possiamo immaginare veramente un emozionatissimo. Enrico Bemporad quando i 7 maggi del 1922 si aprono i battenti della prima fiera internazionale del libro, lui nelle vesti di presidente del comitato esecutore tiene questo discorso a tutti i rappresentanti delle altre nazioni. Ecco, in quel momento, secondo noi, per lui e per i suoi collaboratori, è proprio un sogno che è diventato realtà, quello di essere riusciti a mettere su dal nulla un evento dalla portata della prima fiera internazionale del libro di Firenze. Perché il 22 viene dopo quattro anni il 1918, cioè cosa vuol dire questo? Certo, è anche una risposta... La fiera viene concepita principalmente come piano anticrisi e come risposta alla guerra, perché l'Italia sta attraversando tutte le difficoltà del periodo postbellico, quindi difficoltà economiche. Alla crisi economica generale si somma la crisi del settore editoriale. Allora, ecco, la fiera può essere proprio una risposta per risollevare anche l'industria editoriale italiana che sta attraversando questo momento di stallo per tanti motivi. Ci sono anche dei motivi proprio concreti. Penso al rincaro della carta, Bemporad si esprime moltissimo anche su questo. Penso alla scarsa, alla mancata esportazione del libro italiano all'estero. Ci sono anche qui diatribe, insomma, difficoltà, Bemporad, anche se questo prende posizione. Oppure cose proprio anche più semplici, tipo che i libri circolavano poco perché c'erano delle tariffe postali molto alte. Questo era, appunto, impediva al libro di andare tra la gente. È impressionante quanta modernità, quanta contemporaneità ci sia dentro in questi discorsi che sono di un secolo giusto fa perché è la questione anche dei trasporti, eccetera. Pensate al successo di Amazon che sta anche nel fatto che il libro ti arriva a casa. Cioè c'è anche una questione di bypassare altri sistemi distributivi che rendono più caro il libro stesso. Però qui c'è anche proprio questo tema della rinascita, no? Della, di questa editoria che deve ritrovare uno spazio, deve ritrovare, deve trovare uno spazio nuovo in questa Italia post bellica. Lo può fare anche attraverso il confronto con gli altri paesi, no? L'Italia soffre un po' di questo senso di inferiorità rispetto agli altri, agli sviluppi che ci sono stati, per esempio, in Germania. La fiera è un nuovo perfetto di incontro, di scambio, di confronto reciproco. Dice Benporad, quale altra migliore occasione ci può essere per far vedere di che cosa siamo capaci, ma anche per imparare? Perché una, diciamo, delle caratteristiche anche più moderne di Benporad è anche questa, che lui non si chiude fra le pareti della sua bottega, no? Lui guarda sempre, è un uomo di ampie, ampissime vedute, guarda sempre avanti e soprattutto è disponibile al confronto. Lui cerca di imparare anche dagli altri paesi nella relazione che tiene al congresso di Bruxelles del 33. Questo è indicativo di questa visione così vasta e internazionale. Lui fa un excursus, tiene questa relazione che non è altro che un excursus dettagliatissimo di tutte le feste, le fiere, i festival, le settimane di cultura che si tengono in tutti i paesi europei. Questo per far vedere come appunto lui sia aggiornato, competente, sempre allerta e questo è uno dei dei suoi punti di forza. Poi avrà anche, diciamo, Benporad, luci e ombre perché c'è chi lo accusò di essere invece uno speculatore senza scrupoli. Papini lo definì un viscido gnomo, uno attaccato ai soldi che voleva soltanto arrivare in alto. È una personalità molto interessante. Sulla natura della fiera, perché così si chiamava, c'è tutto un dibattito molto interessante, quello appunto se deve essere una esposizione di bei libri o se deve essere una fiera invece dove si vende anche. Valt, cosa pensi? Cos'è questa posizione? Sì, diciamo che è da qui che scaturisce l'idea della fiera. Il punto di riferimento è l'Ipsia, in particolare quella del 1914 dove l'Italia partecipò e anche con un particolare successo. A differenza della fiera che era pura esposizione estetica di L'Ipsia, l'idea dei nostri tre protagonisti della fiera italiana, Fiorentina, Barfucci, Benporad e Fumagalli, le finalità non dovevano essere puramente di vetrina, appunto, ma di, come dice il regolamento tra l'altro della prima fiera, doveva promuovere la reciproca conoscenza tra le nazioni, mostrare agli stranieri le attività della nostra tipografia e delle nostre attività editoriali, agevolare il commercio librario internazionale, cose che in qualche modo l'Ipsia avvicinava solamente, mentre per loro tre dovevano essere punti cardini dell'idea delle fiere fiorentine. E sì, l'altro punto, sempre dal regolamento, la fiera doveva onorare il libro, il libro come veicolo anche di pace, tra l'altro appunto uscendo dal conflitto della Grande Guerra. Sì, qui c'è la cosa interessante, dicevate prima anche, diceva Federica, dei limiti, diciamo così, dei difetti, diciamo così, dell'iniziativa stessa e di Benporad stesso, non è che era forse un santo, ma stiamo facendo agiografia di Benporad. Però comunque a questi uomini è interessante anche l'equilibrio, diciamo così, tra il mondo del giornalismo, il mondo dell'editoria, il mondo delle biblioteche, questa triade che governa un po' la fiera. Però loro hanno portato a effetto una riflessione che era molto precedente, perché come ha mostrato la Palazzolo, già da tempo, c'erano stati discorsi che immaginavano un evento, un luogo comunque, una camera di compensazione che favorisse il commercio italiano, immaginando anche gli stati perunitari con tutta la frammentazione politica, di dogani, di dazi, legislativa, di diritti, che c'era. Quindi questi uomini hanno rischiato, diciamo, su un'idea che era vecchia, ma l'hanno resa attuale, ecco. Ma infatti, appunto, tra l'altro la prima ipotesi, o comunque quella che ha preceduto, quella del 22, di creare una fiera, o comunque un'occasione per promuovere il libro, era già venuta fuori nel 1841, al terzo congresso scientifico italiano. L'editore Maiocchi propose, appunto, a tre illustri, Maier e Serry History, e il VSE, di portare, dice, di stabilire a Firenze una fiera annuale di libri, cosa che poi non andò a porto per vari motivi, però appunto fu recuperata circa 80 anni dopo da un altro gruppo di intellettuali fiorentini, di nuovo. Però lei diceva appunto che la fiera si concentra soprattutto sul libro e attività di serale, ma fu un evento molto più ampio, che coinvolse tutte le arti, cioè noi possiamo immaginarci una Firenze... Forse la musica non c'è, forse. No, c'era anche, non nella prima edizione, nell'edizione successiva ci fu anche molta musica, ma appunto una Firenze invasa da iniziative culturali di ogni genere, ogni luogo di Firenze, o comunque i principali, appunto penso a Palazzo Pitti, oltre che Porta Romana, le Scudorie Reali, dove era, diciamo, la parte espositiva, dove erano ospeditori, ma anche il parterre di Sangallo, tutti luoghi che promuovevano sì il libro e la cultura, ma anche le altre arti, una rassegna cinematografica, per esempio, che anche questa si ripete, e quindi per promuovere appunto il cinema italiano, la produzione cinematografica, o ancora l'EGM presso l'Isoge Geografico Militare, dove c'era una mostra di cartografia, e quindi anche lì non solo di cartografia, ma anche delle tecniche per la produzione della cartografia. Insomma, era veramente un momento, cioè che ad oggi diventa difficile pensare, con i loro pochi mezzi, riuscire a mettere... Sì, alla fine hanno creato in qualche modo quello che oggi noi vediamo, che so, con un book city, con una mostra diffusa sul territorio, con tante iniziative, e talvolta quei libri, in senso proprio, centrano relativamente, che però appunto portano una settimana di cultura diffusa, lì durò diversi mesi invece, perché rimase aperta praticamente tutta un'estate, se non vado errato adesso. Da maggio-agosto, 92 giorni, appunto dove appunto si inauguravano, specialmente nella prima settimana, tutte queste iniziative, in particolare la mostra di Palazzo Pitti sull'arte del 6 e 700, che fu, pare appunto dalle cronache dell'epoca, uno dei momenti più alti che portò in Italia, a Firenze, collezioni mai riunite, specialmente la produzione caravaggese. Sì, poi anche, vi ho detto, che Benfaro poi era un uomo ben corto, cioè penso proprio alle pagine dedicate alla rivista del proprio spizio, quando dice la copertina è troppo poco, leggete almeno il proprio spizio, che diventa proprio una esortazione alla informazione libraria, perché anche questo è uno dei temi anche attuali, attualissimi, di portare alla conoscenza le uscite dei libri. Adesso c'è anche questa sovrabbondanza e protezione per cui non potremmo essere informati su tutto, ma di poter selezionare, però è un tema veramente grave. Federica, volevi dire qualcosa? Sì, questo fatto che ha già detto Walter, dell'imponenza del progetto complessivo. Il visitatore, nella mente degli organizzatori, doveva avere questa impressione di assistere a un evento eccezionale, un evento che si verificava una volta ogni due, tre anni, poi diventerà triennale. Tutta la città era in rivoluzione, se ne parlava moltissimo anche sulla stampa, sulla stampa coeva. Per il fondo c'è una bibliografia ricchissima relativa proprio all'eco sulla stampa. Un eco che molto spesso andava da un'edizione all'altra, si trascinava dal 22 al 25 anche con le diatribe, quindi non c'erano soltanto i faugori che lodavano questo sforzo di Bempura e dei compagni, ma c'erano tantissime, asprissime critiche, c'erano tanti detrattori, primo tra tutti il risorgimento grafico di Raffaello Bertieri, che trovava sempre il modo di ostacolare e di criticare l'operato di Bempura. Bertieri e il risorgimento grafico si scagliarono in particolare proprio contro le manifestazioni di corredo, le collaterali, le iniziative satellite. Anche ironizzando un po', no? Diceva, allora perché non facciamo anche delle gare di tennis o dei tè danzanti? Ecco, si fa tutto, si pensa a tutto meno che al libro. Bisognava fare meno, ma farlo meglio. Era questo che criticavano Bempura e agli altri organizzatori. Naturalmente poi Fumagalli e Bempura sulle stesse pagine a volte della stessa rivista ribattevano. Insomma, dicevano, no, non è vero. Se le mandavano a dire, cioè se le dicevano. Il libro da solo non basta per avvicinare il grande pubblico, il popolo. Ci vogliono anche perché noi... Mi ha impressionato molto con la parte che andrebbe forse anche approfondita altrove della... Poi questa mostra del libro popolare, della cultura popolare. Perché di qua allora c'erano dei libri che non erano ritenuti per il popolo. Cioè, non vuol dire, erano libri belli. Infatti erano chiusi in vetrine. Mentre invece di là sono libri... C'è di mezzo anche Aldo Sorani, che è una mia vecchia conoscenza, che fa parte però di quest'altro gruppo, di questa mostra così minoritaria, collaterale proprio di cultura popolare. Questo sulle biblioteche popolari e quindi sarebbe interessantissimo anche riuscire a approfondire quell'aspetto lì. Poi questa idea... Poi c'è di partire la storia delle cartoline. Cioè, un'idea modernissima di comunicazione a 360 gradi usando qualunque strumento. Erano tanti prodotti proprio promozionali, editoriali, targati Fiera del Libro. C'erano addirittura le mappe della città di Firenze per i visitatori con l'indicazione dei luoghi che avrebbero ospitato la... Insomma, i tre luoghi adibiti ad ospitare la fiera, ma poi venivano fatti dei diplomi ai partecipanti, appunto, cartoline, bruschia... Eravolo riprodotto, sì. Ogni singola mostra aveva il suo catalogo. Quindi non soltanto la mostra dell'editoria, quella principale, ma anche le mostre satellite. Bene. E quindi, insomma, un grandissimo movimento di idee, di uomini, di energie. Diciamo così, questo libro è un po' un sapido assaggio, però, di un mondo che è ancora in parte, in gran parte, da scoprire, da studiare, che mi colpisce tanto i risvolti di modernità che ha sulla contemporaneità, anche i paralleli che si possono costruire. Vatti, vuoi dire un'ultima battuta? Cosa sta per finire? Sì, fondamentalmente, appunto, come ha detto benissimo, la modernità, appunto, e l'operazione è veramente, è veramente anche attuale. E questa grande capacità di questi uomini è di mettere insieme, appunto, decine e decine di eventi in due mesi e coinvolgere, appunto, tutte le voci delle arti, appunto, ultimissima, le settimane di cultura a Firenze, in cui il decennio sono passati i premi Nobel che venivano chiamati, appunto, per parlare, per rappresentare il loro paese e quindi, insomma, è stata anche un'occasione per richiamare, per essere capitale della cultura. Di grande sprovincializzazione, cioè di internazionale. Grazie. Ripeto, il libro è di piacevolissima lettura e di grande interesse, quindi ringraziamo tanto Federica e Walter, non solo perché sono stati con noi, ma perché l'hanno scritto. Siamo lieti di avervi incontrati, salutiamo il nostro pubblico e arrivederci al prossimo appuntamento dei dialoghi più offisali. Buona giornata. Arrivederci. Grazie. Grazie per la prossima. atto. Ciao.